Giovanni D'Angela! Yes! Buonasera a tutti, benvenuti in teatro! Dai con le mani a tempo con me, dai! Stare bene e stare bene con se stessi. Ma cosa hai detto? È un concettone, il concetto del se stessi, ma approfondiamolo, se stessi con Belen. Ma io stessi benissimo, ragazzi! I figli, a una coppia, il benessere glielo danno, signora, o glielo tolcono? E io quando apro gli occhi mi sveglio e nel lettone, no, mi giro e trovo mio figlio. Ma io veramente, ragazzi, ma io quello qua, io mi meraviglio. Ma davvero mi meraviglio? Dico, ma come cazzo è possibile? L'ho portato sei volte nel lettino, ma sti cazzi di bambini sono come i boomerang, e li lanci nel lettino, tornano nel lettone. Gli uomini prendono in giro le donne perché pensiamo che voi non sappiate guidare. Intanto io mi diverto a far notare a moltissimi maschietti che c'è stata una donna di nome Samantha Cristoforetti che per sei mesi ha pilotato uno shuttle. Sei mesi. Samantha Cristo è a girare, così, con lo shuttle. Sei mesi a mangiare sulla testa di parecchi uomini. Sei mesi, così, senza fermarsi. Le male lingue dicono perché non riusciva a parcheggiare. Io... La dottoressa Mangiarotti, di Cernusco sul Naviglio, 89 anni la dottoressa, però tutta una bella signora rifatta, tutta rifatta con la pelle tirata, aveva fatto questo bruttolino, con la pelle tirata, no? C'è la pelle tirata, la lingua poverina, che la pelle, la lingua usciva, che aveva la pelle e la lingua fuori. Con la pelle tirata, gli occhi cazzo stavano così, quindi gli occhi e la pelle così, con la pelle tutta tirata, dietro questa bella scrivania di pelle che non si capiva dove finiva la dottoressa e dove iniziava la scrivania, era un blocco unico. Prego, prego. Prego, si accamodi, prego, si metta qui. Prego. Prego. Così, poi arrivano qua, madonna, io dico, ma che c'ha le cozze attaccate inizia? Così, amore, te la lavi o te la cancelli? Ma cosa fai? C'è veramente un'esagerazione. E quando mi viene voglia di cioccolato, io mi soddisfo con una carota. La cioccolata soffrisce a una carenza affettiva, quindi tu ti metti una bella barretta di cioccolato in bocca e dici, mmm, che buona. Tu, per dire la stessa cosa, la carota dove te la devi? Uuuuh! Li guarda e dice Forza ragazzi! Si parte? Ipa, 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 ipa. Le signori nell'acqua la guardano così. Sì. Lo ripeto. Io faccio. Sì. Sì, te lo ripeto? Sì. Ma come cazzo? Ho detto a lui c'è lì che a me no, perché? Eh, l'ho preso in seminario. Eh, immagino. E ovviamente l'applauso più grosso per il nostro straordinario, meraviglioso pubblico! Scriviamo! Grazie! Sì, pronto!